E' incredibile non dirmi che non sai chi sono! Io mi chiamo Goku, non mi conosci? Sono Goku, il tuo nemico! Sì, è vero! Autore dei sottotitoli di QTSS Sì, credo che tu ti abbia sottomanutato! Mi lascerò sconticere, caro Minot! Adesso ti mostrerò! Su, eliminatelo! E vedete! Chi di voi vuole essere il prossimo? Prendi questo! Anch'io sono molto veloce, cosa credi? Prendi questo! Sassi che non te l'ho capito! Il gioco è finito! Hai i minuti con Sassi! Vabbè! Troppo veloce! Anch'io sono molto veloce, cosa credi? È già capò! Questa non ci voleva! Persino i miei poteri di Super Saiyan sono del tutto inefficaci!